A Pescara arriva la prima isola ecologica informatizzata per il conferimento dei rifiuti H24 sette giorni su sette, a beneficio dei residenti del quartiere di Porta Nuova con una tessera magnetica. A tagliare il nastro in via Pepe c'erano tra gli altri il sindaco Carlo Masci, l'assessore ai rifiuti Isabella Del Trecco e il presidente di Ambiente S.P.A. Riccardo Chiavaroli, che al TG8 ha spiegato il funzionamento dell'isola ecologica. Questo è un nuovo servizio offerto dal comune, peraltro con questi macchinari siamo la prima città del centro-sud. Il servizio è rivolto in questa fase ai cittadini di Porta Nuova, faremo poi attività simile a Pescara Centro e Pescara Nord. In che cosa consiste? È un posto dove si possono conferire rifiuti 24 ore su 24 con una tessera magnetica che abbiamo già consegnato ai cittadini di Porta Nuova. Chi dovesse accumulare più rifiuti del solito o non vuole tenerli in casa più del necessario può venire qui in qualsiasi momento con la tessera. Questi macchinari si aprono automaticamente, si conferisce il rifiuto e poi la nostra azienda passerà il giorno successivo a ritirare il tutto. Che tipologia di rifiuto può essere conferita qui? Per il momento si può conferire plastica, metallo, apparecchiature elettriche, carta, cartone e il rifiuto secco non organico. In futuro avremo anche dei contenitori per il vetro. L'isola ecologica di Via Pepe è la prima del capoluogo adriatico, ma il comune e ambiente S.p.A. sono già al lavoro per rendere operativi altri due punti per il conferimento dei rifiuti in altre tante zone di Pescara e che saranno pronti entro la fine dell'estate. Fisicamente per chi conosce Pescara nella zona centrale conosciuta come Ex Bingo e l'altra nella zona alle spalle del complesso Lenaiadi. Che tempistica ci sarà per l'inaugurazione di questi altri punti ecologici? Stiamo già lavorando, tendenzialmente dovremo aprire alla fine dell'estate. A che punto si trova il comune di Pescara con la raccolta differenziata? Ad un punto molto buono, siamo oltre il 50%, tant'è che come sapete nei giorni scorsi il comune ha ottenuto di nuovo la bandiera blu che prevede come indicatore anche l'andamento sulla raccolta differenziata. Siamo circa al 51%, siamo tra le più alte città nel centro-sud d'Italia ed è un dato molto importante del quale ringraziamo ovviamente l'amministrazione e i cittadini di Pescara. Ci sono zone che presentano ancora criticità? No, in generale no, criticità ci sono, è un progetto comunque sperimentale, non c'è una zona specifica che sta creando problemi. Stiamo lavorando bene, lo ripeto, anche grazie alla collaborazione dei cittadini e lasciatemelo dire all'abnegazione del nostro personale che è veramente bravo e preparato.